Mangiacasano, autore della rete. Poi da lì il Cosenza ci ha creduto, è cambiata l'inerzia della gara e alla fine è riuscita a vincere la partita. Il nostro demerito è stato quello di forse abbassare troppi ritmi e arretrare un po' troppo. Il Cosenza è una squadra in crescita perché il Cosenza è una squadra importante, non da bassa classifica. Penso che alla lunga ne verrà fuori, già l'ha dimostrato da un paio di settimane. Sicuramente anche il Cosenza dirà la sua, come dirà la sua la Casertana, penso che l'abbiamo dimostrato fin d'oggi anche se abbiamo perso. Però al primo tempo abbiamo fatto la nostra solita partita, forse non con ritmi altissimi, però abbiamo gestito bene la palla e siamo andati in vantaggio. Dispiace perché alla fine abbiamo perso la gara.